È stato un fulmino a Cezerea, ma cosa ne pensa di questa scelta? Credo che si possa dire semplicemente che quando una persona succede ci si aspetta sempre che sia un candidato, quindi io ero abbastanza convinto che ci sia un candidato, a livello sottile di discussione. E ora il centrodestra ha durato un candidato, giusto? Beh, esatto. Magari la gente può trovare. Io penso soltanto una cosa, che oggettivamente chi è uscente da una carica sicuramente ha una situazione, un po' di vantaggio, ma questo risulta in tutti i comuni, in tutte le regioni, in tutte le province in cui si ripresenta un candidato.